Abbiamo qui con noi i ragazzi di atleti dell'Aias di Matera. Quando lo sport non è solo competizione, Sport for Peace della polisportiva Virtus Matera ha riscosso grande successo sabato 15 marzo. Tanti fanciulli ed atleti per il centro storico della città dei Sassi. Andatura normale e tanto sociale. Il vocio della corsa ha visto il via dalla centrale e storica Piazza Vittorio Veneto. Tanti i testimonial lucani, Biagio Tralli, campione mondiale di full contact, la ginnasta Adriana Crisci e rappresentanti della squadra di basket cittadina Bauer Matera, Roberto Mirello e Francesco Longobardi.